Quando siamo ammalato Fausto di Covid sinceramente Io non pensavo assolutamente che sarebbe andato a finire così È stato sicuramente molto bello, molto emozionante anche andare lì per la prima volta E subito fare due podi Moto3 e Moto2 Moto2 addirittura vincere, cosa che Babbo voleva fortemente quest'anno in Moto2 Quindi per me è stato bellissimo e secondo me anche lui sarà molto contento di quello che abbiamo fatto là Secondo me è lui che ci sta dando tutta questa forza Secondo me anche domenica vicino a Luca in pista c'era lui Perché si è presentato suo figlio e poi sono successe queste due cose bellissime Il terzo posto di Moto3, il primo posto di Moto2 Secondo me c'era, lui era lì Vogliamo renderlo tanto orgoglioso di noi Sono sicura che lui non vorrebbe vederci piangere, non vorrebbe vederci disperati Dobbiamo cominciare a scrivere un libro nuovo e quindi ci sarà tanto anche di noi Però sempre con Fausto nel cuore perché poi sono sicura che lui comunque è vicino a noi, sempre Quando Fausto è morto, è venuto a mancare, eravamo un po' disperati perché appunto avevamo l'azienda Quindi questa cosa così importante per lui dovevamo decidere se continuare o meno Quindi sono state tutte cose che si sono accavallate tutte in una volta Però poi ci siamo seduti un attimo, io con i miei figli E abbiamo deciso assolutamente di portare avanti la sua azienda Dove lui ha lavorato e ha creato in tutti gli anni della sua vita, della sua carriera Abbiamo deciso di farlo perché ci siamo posti l'obiettivo, quello che poi era di Fausto Di avere una MotoGP, di staccarsi appunto dall'Apriglia Quindi avere una MotoGP tutta sua E questo obiettivo ci ha dato la forza proprio di prendere in mano la situazione E di andare avanti e anche perché comunque in azienda lavorano circa 70 persone Che hanno comunque famiglia Quindi dover vendere, dover vendere tutto Non ci sembrava bello da fare proprio nel rispetto anche di tutte queste persone Che comunque sono state vicino a mio marito per tanti anni L'obiettivo, il sogno di Fausto, di concretizzarlo Ci ha proprio dato questa forza enorme di continuare Di continuare a fare quello che avrebbe voluto lui Per me è stato bello poterlo ritrovare anche qui Perché lui c'è Per voi lui è qui Per me è qui con noi Per me è qui Per me è qui